Penso che l'iniziativa vostra sia un'iniziativa importante per pure un punto, un segno per dire che sta succedendo una cosa e che ci sono delle persone che vogliono con forza denunciarla. E come vede il fatto che noi abbiamo fatto un po' di domande qua, nessuno sembra essere a conoscenza di nulla? Io credo che l'unico servizio che ho visto in giro, adesso sulla cronaca locale della cittadina è forse qualcosa uscito, noi del fatto quotidiano.it un servizio l'abbiamo fatto, se non sbaglio, tre o quattro giorni fa, leggono un po' col fatto forse.